allora ragazzi sono quasi, ho trovato il nuovo oscar adesso ve lo presento come ti chiami? Vito Vito è un pugile, è un ciclista, gira tutto il mondo in bicicletta campione di pesi massimi, un allenatore, ha perso dal trailer grande Vito, fai un saluto a tutti ciao Vito saluto a tutti ok saluto a tutti intanto di ciao saluto a tutti